Il popolo degli orecchi è un piazza, e dice praticamente, alla fine si sottolinea che questi soggetti che stanno lavorando su quelli che amano l'intensità. Seguiamo qua, Pio. Seguiamo qua, se non c'è la libertà personale. Anche perché è il più alto, quindi è quello che si vede da Londano. Noi seguiamo lui, poi è dove finiamo fino.